Siamo nel Dipartimento di Scienze Sociali, un dipartimento giovane, ma anche un dipartimento che direi raccoglie intensamente la vocazione del nostro fondatore, che ci spinge a una formazione inclusiva. La nostra collocazione nel pieno del centro storico cittadino non è che il presupposto per una rete intensa e solida di attività di ricerca che il Dipartimento ha stretto con il territorio nella sua interezza, oltre che una collaborazione intrateneo con colleghi di altre discipline che spaziano dalla geologia all'informatica. Il Southern Center for Digital Transformation è un luogo dove si studiano le trasformazioni digitali in campi molto diversi, cogliendo delle trasformazioni digitali gli aspetti di processi situati e soprattutto avendo molta attenzione alle conseguenze di questi processi di cambiamento in chiave di diseguaglianze. È un dipartimento profondamente multidisciplinare, noi abbiamo 19 diversi settori scientifico disciplinari e 6 diverse aree CUN. L'avvio dell'audiovisual Napoli Hub è per noi l'occasione di aprire le porte dell'Accademia alla formazione dei giovani mit del territorio e tra poco anche degli adulti che hanno necessità di una formazione nel campo della produzione di audiovisibili.